ciao sono marzia di hobby shop bomboniere punti ti presento un'idea facile facile alla portata di tutti abbiamo tantissime catene con perle e questi anelloni finali apribili che possono essere utilizzate come manici per borse o pochette oppure anche ad esempio per quest'idea facilissima borsa in juta aggancio i due moschettoni ai manici della borsa ed ecco la borsa trasformata in una sciccosissima borsa con anche il lurex tutto lucicoso io poi perché esagero ho messo anche la passamaneria a frange in piume che insomma rende tutto più bello la borsa è disponibile anche non in versione lurex in versione aiuta naturale e abbiamo tante misure e tanti colori tutto è in vendita nel nostro negozio online hobby shop bomboniere punto it buona giornata a tutti saluti